Salve a tutti ragazzi e benvenuti a SIVA in questo nuovo video di Gears of War 3 bene siamo al punto di prima e quindi non sono morto andiamo pure avanti guardate dove mi ha lasciato il fucile maledizione andiamo un po' punto di sosta si si vado vado rilassati adesso lo prendo però l'altro me l'hai tolto questo è interessante allora purtroppo non ti vedo non ti vedo ok ok vediamo se ce la faccio ok devo andare devo andare devo andare il cazzo qui ce ne sono avventissimi ok dai dipenditi non si difendeva allora guarda questo ma cavolo è buggato sto coso ok ok dai 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 vai ce ne sono un bel po' qui ma sono stati sono tutti uno dietro l'altro così mi piacete mi piacete quando vi mettete uno dietro l'altro perché così almeno siete più facili da prendere cavolo ho fatto cilecca uno e due bene abbiamo ammattato un fumo ho fatto proprio la fila eh porca la miseria non so dove prendere munizioni adesso sono là toliti che miseria sono qua eccole qua vai 184 e 185 vai almeno così sono appieno di nuovo se no sarebbe un bel casino dove devo andare non me lo dissi direttamente qua vabbè oh almeno ho fatto gli obiettivi che mi chiedeva cosa devo fare adesso oh cavolo uno è andato troppo non è facile capire tutte le varie cose da fare qua come siete allora cosa devo fare si prende l'entrata secondaria lo devo solo difendere lo devo solo difendere faccio presto ok questa è andata ok adesso ti prendo dammi se prende quel cazzo di coso teneteli fuori difendete quella porta non ho colpo vai ok questa è andata eh abbassate quei maledetti scudi e fatevi ammazzare eh prometto che farò in fretta preso porca miseria l'ho mancato ma porca miseria adesso questo lo devo prendere però eh stiamo uccidendo però hanno invitato tutti i parenti eh già ok due sono passati mamma mia maledizione stanno per sopra a farci ritirata dove ritirata il secondo ingresso ha ceduto i vermi sono nel cortile interno ripiegare verso il terzo in rete e concentrare il fuoco sul cortile interno ok io concentrerò anche il fuoco sul cortile interno le stiamo fredendo ok mamma mia che bordello allora vediamo un po' ok questo è morto se no cavolo siamo 30 anni ok vediamo anche qua stiamo uccidendo veramente tanti perfetto ecco il boomer ok dai però dai si fanno bene non credono vai boomer di merda vai muori mamma mia eh ma quanti sono sono fatta oh porca miseria e quindi devo andare di qua vero? non chiamoli nel garage non devono proseguire altre ehm dove devo andare? qua qua allora aspetta aspetta ok sì però dovete morirci male voi porca miseria c'era qualcuno qui prima vero? dammi 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 sta cazzo di torretta eh porca miseria eh si è ridotti male si è ridotti male dai dove sei? boom ecco ok come è andato? l'altro sta andando e quest'altro sta andando oh mamma mia eh che cavolo dove sei? che ti devo dare una mano porca miseria dove sei andato a infilare? dai non me lo da bastardo oh dov'è il mio amico? oh mamma mia oh meno male che mi hanno aiutato loro ho capito ho capito ultima resistenza che intende con ultima resistenza? ah eh cool oh porca eh cavolo però eh no che avevo pronto il fucilo aspettiamo non ci sto capendo cazzo vabbè stai perdendo per il culo oh concentrare il fuoco su quel serbatoio eh ho capito eh ho capito ci prova ma qui è un vero casino ok vai guarda il cazzo che miseria per i caglioni mamma mia mamma mia è veramente frenetico questo livello ah sì sentite come scotta bastardi arrostite mamma mia il forte è al sicuro ripeto il forte è al sicuro tutta la squadra antincendio da scortile principale sta andando tutto a fuoco bisogna spegnere le fiamme cavoli c'è stato duro quello era l'ultimo almeno per ora eh meno male abbiamo appena in tempo a sbarazzarci del fetore dei vermi bruciati cavoli c'è stata duro colonnello dobbiamo fare quella chiacchierata oh meno male cazzino cavoli ma è assolutamente incredibile anche per uno strozzo come lui così questa invenzione di tuo padre ucciderà gli splendenti e cosa mi dici degli altri vermi nessuna garanzia si trasformano in splendenti ma non significa che funzionerà su di loro e comunque dobbiamo scoprire dov'è azzurra peccato per il martello ci serviva eh dannazione alcuni satelliti si attivano ancora ma scordatevi la precisione mhm forse io posso ripararlo Baird ecco il disco stopiscemi perni non ci crederai mai non ora Vic state monitorando i canali radio si tratta di Sam e Ania sono intrappolate fuori dal perimetro accidenti ci siamo Bernie caricare e puntare gente chiederò a qualcuno di guidare il camion mi sono persa qualcosa biondino mhm ti spiegherà tutto tuo padre tu tienigli d'occhio la pressione deve stare calmo fare respiri profondi questo genere di cose ok eh mamma mia terrificante nell'occhio nell'occhio del ciclone proprio ecco esci a bordo di un camion per per levare Sam e Ania mi interesserebbe ponersi il fuoco per guarda io i veicoli non li sopporto quindi farei marcos lascia fare a me sono in debito con Sam col saliamo in cima e copriamo Dom mentre Baird lavora sul martello ok oh il monocolo il monocolpo scusate che monocolo mamma mia Sam veniamo a prendermi tutto bene muori ma muori te muori ah siamo a posto e non dirlo a me tieni duro Ania arriviamo non dirlo a me che f***o io li sto mattando eh oh porca vacca li sto mattando ma guarda quanti sono qui è un bel casino allora prendiamo il monocolpo qua oh cazzo non ce l'ho fatta Dom stai bene Dom avanti alzati era voluta oh e chi c'è le due tope oh cazzo chi è Carmine ah ma quello muore sempre eh quello muore sempre non ci fa niente allora io avrei monocolpo vieni giù la testa eh eh riuscire a capire dove andare sarebbe bello col monocolpo non si capisce un cazzo eh oh eccolo qua forza ripiegate verso il forte non vedo eh vabbè questo però non mi interessava più di tanto vediamo se c'è qualcuno qua di forte perché se no che senso ah dove siete questo è mio il tuo non si capisce parca sì ma io non capisco forza portiamo dentro tutti non capisco quest'anno troppo ingrandita se non mi riesce cosa prendere vai questi sono i miei sono i loro non si capisce vabbè ammattiamoli assoluti ok eh quello è un casino ok prende mamma mia il casino merda neppure io mangierei quella siamo circondati dagli splendenti attiva il martello ok ma faranno meglio entrare non abbiamo il piano controllo perfetto ah uso il tetto perché io faccio poco ok vai merda luccicosa merda luccicosa c'è veramente è incredibile a secco a secco perfetto ok esplodi bravo adesso questo sta passendo là eh si mette male oh caspita ah adesso uso l'altro oh cazzo oh porca oh porca dove è monocolo lì come cazzo si chiama vai l'ho mancato la grande porca miseria l'ho mancata la grande io lo sto prendendo però eh mi sa che non non serve questo si sta attivando ora non vedo un cazzo oh mamma mia non ci ho capito un cazzo cioè sono più loro che fanno che io l'intellezione è veramente bassa wow l'abbiamo arrottita eh così pare d'accordo tutti dentro abbiamo delle questioni in sospeso oh porca che diavolo succede ma quanto è impreciso il metodo l'alba oh cazzo ma quanto è forte quel cacacazzi forza andate tutti sul retro del forte correte e io che faccio e come cazzo e l'alba che cazzo quell'affare che ha sul e quindi devo colpire quel cazzo oh che cazzo ho sbagliato bussante è cos'altro aspetta va bene io non non ce la faccio non è facile ok dai girati però ok non sparate finchè non si avvicina eh infatti è quello che si approfondisci tu la conoscenza io mi tiro indietro dai bene è un occhio duro anche per Coltray vieni da coltray vieni da coltray ecco lo sto prendendo no adesso non è porca miseria non è facile non è facile no adesso ha chiuso porca miseria prendere i punizioni rimango senza 180 dovrebbe esserci un'altra arma no che non mi interessa è questa oh almeno adesso ho un po' di più porca miseria è molto difficile ok su dove sei eh devi aprire quella cazzo di pancia ok ecco qua cazzo miseria porca miseria oddio mi sono buttato proprio da solo eh ma allora cazzo miseria non ci sto capendo un cazzo eh mi è girato porca vai devo smetterli andarci addosso mi sono diritto no 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 mamma mia e non sei morto ok ok ci sto vai 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 ho preso un sacco di volte eh che miseria in piedi in piedi come sei girati non si apre ok oh se l'ho fatta ma ci sono 4 cazzo merda vapore di emulsion sta andando sempre peggio sta andando sempre peggio eh per carità forte capendo una mazza l'ho preso un sacco di volte mi viene sto prendendo un sacco di volte oh era l'unica l'unica sta lì vicino a sparare in continuazione mamma mia terrificante questa fase di gioco è stata perlenda veramente la più caotica speriamo porca miseria sei stata concitata la fase incredibile ecco qua azzura nessuna immagine ma un sacco di dati e mappe accomodatevi ma è un'isola come diavolo si fa a nascondere un'isola lo sapevo altre stronzate top secret di Prescott che diavolo è una barriera Belstrom è una specie di scudo protettivo già wow un uragano artificiale intorno all'isola eh già ehi Prescott ha investito un sacco in quella tecnologia da tiranno pazzo quasi quasi lo ammiro ma pare che l'unico modo per entrare sia passarci sotto perfetto c'è un vecchio sottomarino al cantiere navale di Endemuth sì sempre che non sia pieno di falle che i motori funzionino e che si trovi del carburante vabbè che entro in scena io figliolo sono stato in marina e sono in grado di ripararlo pilotarlo e rifornirlo se riusciamo a riempire la nave possiamo passare da Mercy o da Charlie conosco Mercy una stazione di pompaggio di Emulsion proviamo prima lì sicuro di volerci andare perché è la città di Maria posso sopportarlo ci serve carburante eccidente sarà veramente dura c'è una terpesta che è protettrice cioè protettiva che ha eretto quello lì ma ok ragazzi io direi che ci possiamo salutare qui per questo video è tutto così faremo con camera nel prossimo episodio il nuovo capitolo a quanto pare e bene io vi invito a lasciare un like un commento se vi piace la serie e per adesso vi do un saluto ci vediamo ciao ciao